Voleva essere una leader gentile e disponibile. Quando supervisionava il lavoro, si limitava a fare le cose alla buona e ad essere tollerante e comprensiva per mantenere le relazioni con gli altri. E così non si otteneva alcun progresso nel lavoro. Dopo essere stata trattata e criticata, ha iniziato a riflettere. Cosa ha imparato sul suo problema? Quali pratiche e cambiamenti ha intrapreso? A maggio dell'anno scorso, sono stata incaricata di irrigare i neofiti. L'avevo sempre ritenuto un lavoro relativamente facile. Bisognava solo condividere con loro sulle visioni e farli partecipare alle riunioni. Ma una volta iniziato, ho capito che in realtà è un lavoro molto impegnativo. Oltre a condividere sulla verità per aiutarli a gettare solide fondamenta sulla vera via, dovevo coltivare leader, lavoratori e ogni tipo di talento per renderli indipendenti nel lavoro. E il mio leader mi ha esortata a supervisionare il lavoro dei nostri irrigatori, perché se avessimo rimandato o avuto problemi, avremmo influenzato il progresso generale del lavoro. Ho compreso l'importanza della supervisione e ho iniziato a controllare i progressi dei miei fratelli. Ma quando fissavo loro degli appuntamenti per discutere del lavoro, nessuno rispondeva ai messaggi e quando lo facevano, posticipavano. Una volta, ho fissato un incontro con una sorella per un progetto. Prima ha spostato l'appuntamento dalla mattina al pomeriggio, poi l'ha rimandato alla sera. Due giorni dopo, non c'eravamo ancora viste. Ho pensato, mi stanno evitando di proposito perché mi snobbano e pensano che non sia in grado di risolvere i loro problemi. Per quanto siano impegnati con il lavoro, non hanno tempo per discutere con me. Se si continua così, come farò il mio lavoro? Poi, ho finalmente organizzato alcuni incontri. Ma quando ho chiesto dei dettagli o dei progressi, alcuni hanno risposto in modo burbero e sono stati un po' restii. Mi sono detta, se sto sempre a controllarli, penseranno che cerco di render loro le cose difficili e che non considero ciò che affrontano? Se mi informo sui loro progressi dopo aver assegnato il lavoro, penseranno che li sto trattando come macchine e che non ho sensibilità. Con questi pensieri in testa, non riuscivo a continuare. Una volta ho notato che molti dei neofiti irrigati da una sorella non partecipavano alle riunioni. Le ho chiesto se condividesse la verità e risolvesse i loro problemi. Giusto. Lei ha risposto, dicono di essere occupati, io non posso obbligarli a frequentare. Poiché temevo pensasse che non mi preoccupavo di lei e dei Suoi problemi reali, non ho usato insistere. Non è tutto. Alcuni erano negativi dopo il nostro incontro inerente al loro lavoro. Erano convinti di non aver fatto progressi e di non essere adatti perché, pur lavorando continuamente, avevano ancora problemi. All'epoca volevo sottolineare questo. Se erano negativi, significava che non affrontavano le questioni di petto e non sapevano accettare la verità. È vero. Ma temevo dicessero che le rimproveravo e basta senza considerarli. Così mi sono frenata nel parlare. Se pensiamo sempre a come ci vedono gli altri, è difficile concludere qualcosa sul lavoro. Giusto. Sono diventata ancora più titubante e non ero disposta a supervisionare il lavoro. Pensavo sono credenti da molti anni, porteranno a termine i propri doveri. Alcuni non hanno nemmeno tempo per i devozionali, di certo non si tireranno indietro. Devo solo condividere chiaramente sui principi del lavoro e delegare i compiti. Non star sempre loro col fiato sul collo, se no si sentiranno limitati. Ho smesso di fare supervisioni dettagliate e di controllare il lavoro degli altri, limitandomi a valutare i progressi alla fine di ogni mese. Ma poi mi sono resa conto che anche se tutti sembravano impegnati nel lavoro, quando ho chiesto delle specifiche, la maggior parte non le sapeva e molti non capivano bene i dettagli. Così ho detto a tutti dei problemi e delle deviazioni che avevo notato, ma nessuno ha risposto. Temevo che avrebbero potuto opporre resistenza ed essere negativi. Così mi sono limitata a riassumere i problemi e a chiedere modifiche tempestive, prima di condividere le parole di Dio e la mia comprensione. Così non hai risolto alcun problema. Hai ragione. Poco dopo, sono emersi problemi nel lavoro. Alcuni addetti all'irrigazione non si assumevano la responsabilità dei neofiti che non partecipavano alle riunioni. Quando è venuto fuori, gli addetti non hanno accettato quella critica. Di conseguenza, alcuni neofiti hanno lasciato la chiesa. Durante una riunione, un leader superiore ha chiesto notizie sul lavoro mensile di irrigazione. voleva sapere quanti neofiti non partecipassero alle riunioni e perché. Alcune sorelle hanno detto di non saperlo. Il leader ci ha trattati. Siete stati irresponsabili con i neofiti. Non li avete irrigati bene e di conseguenza hanno lasciato la chiesa. Non prendete sul serio il vostro dovere. Sì, è vero. Le sue parole hanno colpito nel segno. Aveva ragione. I fratelli si erano impegnati per portare i neofiti nella chiesa. Quando non venivano alle riunioni, gli irrigatori non conoscevano i motivi. Non li irrigavano e sostenevano. Portandoli a lasciare la chiesa è un grave caso di negligenza. Ho capito che i problemi emersi mettevano in luce le mie stesse mancanze. Non mi ero aggiornata sul lavoro dei fratelli. Non capivo i loro problemi pratici e non li supervisionavo nel lavoro. Di conseguenza, non avevano chiari i loro problemi. Tutto a causa della mia mancanza di responsabilità. Così ho pregato Dio di aiutarmi a riflettere e a conoscere me stessa. Bene. Durante i devozionali, mi sono imbattuta in un passo delle parole di Dio che mi ha aiutata a capire il mio stato. Oh! Non comprendendo come procede il lavoro, i falsi leader sono incapaci di identificare problemi che emergono in esso e di risolverli, cosa che spesso provoca ripetuti ritardi. In determinati tipi di lavoro, l'ignoranza dei principi e l'assenza di responsabili adeguati fanno sì che i lavoratori versino in una condizione di negatività, passività e attesa, cosa che influisce in modo negativo sul lavoro. Se il leader si facesse carico delle sue responsabilità, guidasse e sollecitasse i lavoratori e trovasse qualcuno che conosca bene il lavoro e sappia dare direttive, l'opera progredirebbe speditamente anziché subire ripetuti ritardi. È vitale che i leader sappiano e capiscano nel concreto a che punto è il lavoro. È naturale che debbano assolutamente sapere e capire a che punto è il lavoro, poiché l'avanzamento è legato all'efficienza e anche agli obiettivi prefissati. Se un leader non ha neppure idea di come il lavoro stia procedendo e non lo monitora, la maggior parte delle persone che svolgono un dovere avrà un atteggiamento negativo e passivo. sarà fortemente apatica e priva di senso del fardello, negligente, e in tal caso il lavoro è destinato a progredire lentamente. Se non c'è nessuno che abbia il senso del fardello e che sia esperto, che guidi, supervisioni e che sappia trattare le persone, la produttività e l'efficacia del lavoro saranno molto scarse. Se i leader e i lavoratori non riescono neppure a rendersi conto di questo, sono stupidi e ciechi. Pertanto, è essenziale che il leader e i lavoratori siano tempestivi nell'informarsi e nel seguire e nel tenersi al corrente sul lavoro. Le persone sono indolenti e quindi senza direttive, stimoli e verifiche dei leader e lavoratori aggiornati sul progresso del lavoro, è probabile che si lasciano andare diventando pigre e approssimative. Se questo è l'atteggiamento che hanno verso il lavoro, il progresso e l'efficacia, ne risentiranno davvero gravemente. Per tutti questi motivi, leader e i lavoratori all'altezza dei requisiti dovrebbero essere solleciti nel tenersi al corrente di ogni aspetto del lavoro e in merito al personale. Non dovrebbero per nessuna ragione comportarsi come i falsi leader, che sono negligenti e approssimativi, senza senso di responsabilità. Non risolvono i problemi e di qualunque lavoro si tratti, sono sempre approssimativi e superficiali, pronunciano solo parole altisonanti e vagui, dottrina e compiono azioni di facciata. In generale, è esattamente così che operano i falsi leader. Volendo fare un paragone con gli anticristi, anche se non fanno il male apertamente o intenzionalmente, è corretto dire che dal punto di vista dell'efficacia, i falsi leader siano negligenti e superficiali, privi di senso del fardello, responsabilità e lealtà, nei confronti del loro lavoro. Amen. Queste parole mostrano la superficialità dei falsi leader, che si limitano alla dottrina, senza supervisionare il lavoro e non riuscendo a comprenderne concretamente l'andamento. Nel lavoro, molti problemi non vengono scoperti e risolti in breve tempo, causando ritardi nell'avanzamento. Vero. Applicando questo al mio stato, ero convinta che, essendo credenti di lunga data, tanto impegnati da trascurare i devozionali, i fratelli avrebbero svolto il dovere correttamente. Per questo li ho lasciati fare e non ho supervisionato il loro lavoro. Non ho capito le deviazioni, né se stavano lavorando secondo i principi, né perché alcuni progetti non davano risultati. Non avevo comprensione di questi dettagli. Ho scoperto alcuni problemi dei fratelli, ma non li ho aiutati a capirli e a cercare la verità e la soluzione. Tantomeno li ho trattati o guidati in modo tempestivo. Ho solo parlato di dottrina in modo superficiale e non ho risolto i loro problemi. Per questo alcuni neofiti non sono stati irrigati e hanno lasciato la chiesa. Stavo compiendo il male. A parte eseguire le disposizioni lavorative, il compito più importante di leader e lavoratori è quello di supervisionare l'andamento di tutto il lavoro, conoscere la situazione di ognuno e condividere sulla verità per risolvere i problemi. È vero. Dici bene. Ma io non sono riuscita a svolgere il mio ruolo ed è stato un grave caso di negligenza. La tua comunione mi ha mostrato quanto sia cruciale la supervisione. Se i leader e i lavoratori si affidano alle loro nozioni e non supervisionano il lavoro come Dio richiede, non faranno altro che ritardarlo. Proprio così. Le conseguenze saranno gravi. Sì. Riflettendo, mi sono resa conto che anch'io avevo una convinzione molto sciocca. Cioè che i credenti di lunga data non dovessero essere supervisionati. Essendo tutti impegnati, credevo lavorassero sodo. Così li ho lasciati fare in autonomia, senza supervisione, convinta di non limitarli in questo modo. Ma questo era solo il prodotto delle mie nozioni. È vero. Poi ho letto un passo delle parole di Dio che mi ha aiutato a capire l'importanza della supervisione. Oh! Sebbene oggi molte persone compiano un dovere, sono poche quelle che perseguono la verità. Raramente compiendo il dovere, perseguono la verità ed entrano nella sua realtà. La maggior parte agisce senza principi. Non obbedisce veramente a Dio. Si limita a dichiarare a parole e di amare la verità, di essere disposta a perseguirla, a lottare per essa. Ma non si può ancora stabilire quanto durerà questa determinazione. Chi non persegue la verità è sempre incline a manifestare un'indole corrotta. Chi non persegue la verità è privo di senso di responsabilità verso il dovere. Spesso negligente e superficiale agisce a suo piacimento ed è incapace di accettare la potatura e il trattamento. Non appena diventa negativo e debole, rischia di gettare la spugna. Questo accade spesso. Non c'è niente di più comune. È così che si comporta chi non persegue la verità. Quindi, quando le persone non hanno ancora guadagnato la verità, sono inaffidabili e indegne di fiducia. Cosa significa che sono indegne di fiducia? Significa che, di fronte a difficoltà o battute d'arresto, è verosimile che cadano, che diventino negative e deboli. Chi è spesso negativo e debole è una persona affidabile? Decisamente no. Invece, coloro che comprendono la verità sono diversi. Chi comprende realmente la verità ha un cuore che teme Dio e che obbedisce a Dio. E solo chi ha un cuore che teme Dio è degno di fiducia. Chi è privo di timore di Dio nel cuore non è degno di fiducia. Come ci si deve approcciare a chi non ha timore di Dio nel cuore? Bisogna dargli assistenza e sostegno amorevoli. Deve essere controllato, aiutato e guidato di più mentre compie il dovere. Così potrà svolgerlo in modo efficace. Qual è lo scopo di tutto ciò? Lo scopo principale è sostenere il lavoro della casa di Dio. In secondo luogo, si tratta di individuare tempestivamente i problemi. E sostenere le persone, trattarle e potarle, correggerne le deviazioni e rimediare alle mancanze e carenze. Questo è per loro un beneficio. Non c'è la nulla di malevolo. Supervisionare le persone e informarsi di più su ciò che fanno le aiuta a intraprendere il giusto cammino nella loro fede in Dio, a compiere il dovere come richiesto da Dio e secondo i principi, così che non causino disturbo o intralcio e non sprechino tempo. L'obiettivo di ciò nasce dalla responsabilità verso di loro e verso il lavoro della casa di Dio. Non c'è la alcuna malignità. Amen. Le parole di Dio sono chiare. Tutti hanno un'indole corrotta e nessuno è affidabile prima di essere reso perfetto. Hai ragione. È vero. Possiamo essere entusiasti e inclini al dovere, ma la nostra indole corrotta non è stata completamente trasformata e siamo ancora inerti. Se nessuno ci supervisiona, ci tratta e ci pota, in qualsiasi momento possiamo soccombere alla nostra indole corrotta e agire in modo superficiale e negligente o essere fonte di intralcio, causando danni al lavoro. Hai ragione. È vero. Infatti. Se i fratelli e le sorelle hanno problemi nel loro lavoro e si chiude un occhio e non si condivide per aiutarli, trattarli e potarli, è una grave negligenza e una mancanza di responsabilità. Sì. È vero. È nella nostra natura preferire lozio, essere superficiali e non curanti. Se non c'è nessuno a sorvegliare, non riusciamo a portare a termine il nostro lavoro. Deviamo dalla rotta senza accorgercene. Giusto. Supervisionare non significa limitare o diffidare, né rendere le cose difficili, ma individuare i problemi e correggere le deviazioni per aiutare gli altri a svolgere i loro doveri. Questo è essere responsabili del lavoro. È vero. In che modo hai cambiato le cose e avuto accesso? Ho praticato consapevolmente secondo le parole di Dio. Con la mia collaboratrice abbiamo riepilogato le problematiche attuali del nostro lavoro, suddividendole in categorie e convocato i fratelli per la comunione. Così si sono resi conto di avere un atteggiamento sbagliato nei loro doveri e hanno capito l'importanza della supervisione. L'atteggiamento generale e lo stato di tutti sono un po' migliorati e ho cercato di tenermi più aggiornata sullo stato del loro lavoro e di fornire un'attenta supervisione. Li ho aiutati a superare le loro difficoltà e inadeguatezze. Dopo un po', abbiamo ottenuto risultati migliori e tutti hanno fatto progressi nei loro compiti. L'ho detto a Dio. È una buona pratica. Sì. Ho poi riflettuto sul perché non dessi importanza alla supervisione. Avevo altri tipi di indole corrotta. Nella mia ricerca mi sono imbattuta in questo passo. Alcuni leader della chiesa vedono i loro fratelli negligenti e frettolosi nel dovere, ma non li rimproverano. Davanti a un danno agli interessi della casa di Dio, fanno finta di niente e non indagano per non offendere nessuno. Non dimostrano di considerare le altrui debolezze. Il loro intento è invece quello di conquistare la gente. E ne sono consapevoli. Se continuo così e non reco offesa a nessuno, penseranno che sia un bravo leader. Avranno una buona e alta opinione di me. Mi apprezzeranno e mi ameranno. A prescindere dai danni arrecati agli interessi della casa di Dio e da quanto i Suoi eletti siano ostacolati nell'ingresso nella vita o da quanto sia perturbata la loro vita nella chiesa, persistono nella loro filosofia satanica e non offendono nessuno. Non provano mai rimorso. A chi provoca intralcio e disturbo, tutt'al più menzionano di sfuggita la questione per poi accantonarla. Non condividono sulla verità, non evidenziano l'essenza del loro problema e non ne analizzano lo Stato. Non comunicano mai qual è la volontà di Dio. Non espongono né analizzano mai gli errori frequenti delle persone o l'indole corrotta che spesso rivelano. Non risolvono alcun problema reale. Anzi, tollerano sempre la cattiva condotta e la manifestazione di corruzione e rimangono indifferenti davanti a chi è debole e negativo, limitandosi a predicare della dottrina, a fare qualche vaga esortazione, cercando di evitare i conflitti. Per cui, i prescelti di Dio non riflettono su se stessi, non apprendono come risolvere la corruzione e vivono tra parole, frasi, nozioni e fantasie senza ingresso nella vita. Nel loro cuore pensano il leader è persino più comprensivo di Dio verso le nostre debolezze. Forse siamo di statura troppo piccola per soddisfare Dio, ma ci basta soddisfare i requisiti del nostro leader. Se obbediamo al nostro leader, stiamo obbedendo a Dio. Se un giorno il Supremo sostituirà il nostro leader, allora in quel caso ci faremo sentire. Per impedire che il Supremo sostituisca il nostro leader, negozieremo con Lui e Lo costringeremo ad accontentare le nostre richieste. Così ci comporteremo bene con il nostro leader. Quando le persone hanno simili pensieri nel cuore, quando hanno un tale rapporto con il leader e provano dipendenza, ammirazione e venerazione nei Suoi confronti, nutrono in Lui una fiducia sempre maggiore, vogliono ascoltare le Sue parole e smettono di cercare la verità in quelle di Dio. Un tale leader ha quasi preso il posto di Dio nel cuore delle persone. Se è intenzionato a mantenere un simile rapporto con gli eletti di Dio, se ne trae un sentimento di godimento, se crede che gli eletti di Dio debbano trattarlo così, allora non c'è alcuna differenza tra Lui e Paolo e ha già intrapreso il cammino di un anticristo. Gli anticristi non svolgono un lavoro reale e non risolvono i problemi. Non guidano le persone a entrare nella verità. Si adoperano solo per prestigio e fama, per affermarsi, proteggere il proprio posto nel cuore delle persone e indurre tutti ad adorarli, venerarli e seguirli. Questi sono i loro obiettivi. È così che cercano di conquistare le persone e di controllare i prescelti. Tale modo di operare non è forse malvagio? È ripugnante. Amen. Smascherandomi, Dio mi ha mostrato che non supervisionare il lavoro è un modo per mantenere il prestigio e le proprie relazioni. È un indole d'anticristo. Proprio così. Gli anticristi hanno un indole malvagia, lavorano per il prestigio e non correggono i fratelli quando hanno dei problemi. Sono accomodanti e solidali, così da poter ottenere il loro favore e irretirli e far sì che tutti li adorino e vengano davanti a loro. Hai ragione. Dici bene. Riflettendo sulle parole di Dio, mi sono resa conto di essere come coloro che Dio ha smascherato. Per mantenere prestigio e immagine nel cuore degli altri, ogni volta che supervisionavo, il lavoro e gli altri si lamentavano o facevano resistenza, smettevo di indagare e non li trattavo né potavo, temendo che mi considerassero priva di sensibilità, esortandoli e opprimendoli senza tener conto di ciò che affrontavano. Quindi mi limitavo a segnalare i loro problemi in linea generale senza analizzare la sostanza di questi ultimi. A volte notavo anche che, nonostante l'impegno di tutti, non c'erano stati progressi nel lavoro. Dovevano esserci problemi. Giusto. Ma ogni volta che i fratelli tacevano, dopo che li avevo corretti, mi sentivo limitata e non osavo continuare la comunione. Perciò non avevano consapevolezza della loro negligenza e non hanno fatto progressi né nel lavoro né nell'ingresso nella vita. Vivevo nella filosofia satanica del non colpire mai le persone sotto la cintura, mantenendo così i rapporti, facendo credere di essere attenta ai loro problemi, una leader comprensiva, in modo che mi avessero nel cuore. Poiché non praticavo la verità e tolleravo sempre, i fratelli non si rendevano conto dell'entità dei loro problemi e questo ha danneggiato gravemente il lavoro. Sono stata egoista e spreggevole. La casa di Dio richiede che tutti i leader e i lavoratori supervisionino il lavoro, salvaguardino la chiesa, risolvano rapidamente i problemi nel lavoro e svolgano un lavoro pratico. Io, invece, ho messo da parte gli interessi della chiesa per il mio prestigio, lasciando vivere i fratelli con un'indole corrotta, essendo superficiale nel dovere e ritardando il lavoro. Non ero all'altezza delle intenzioni di Dio. Dopo averci riflettuto, ero rammaricata e così ho pregato Dio, disposta a pentirmi e a migliorare. Amen. Poco dopo, quando un leader è venuto a controllare il nostro lavoro e ha visto che alcuni progetti erano ancora indietro e non producevano risultati, ci ha chiesto di seguire più da vicino i progressi di tutti, di individuare i problemi e di risolverli. Ho pensato, questo lavoro è stato assegnato solo di recente. Se ci informiamo ora, i fratelli non penseranno che siamo troppo severi e che non abbiamo sensibilità? Mi lasciavo di nuovo condizionare dal prestigio e non stavo praticando la verità. Ho pensato alle parole di Dio. Non fare sempre cose per il tuo tornaconto e per i tuoi interessi. Non preoccuparti degli interessi degli uomini e del tuo orgoglio, della tua reputazione o prestigio. Devi pensare agli interessi della casa di Dio e farne la tua priorità. Considera la volontà di Dio e rifletti se tu sia stato impuro o sleale nell'adempimento del tuo dovere, se tu abbia adempiuto le tue responsabilità e se tu abbia riflettuto sinceramente sul tuo dovere e sul lavoro della Chiesa. Considera queste cose. Riflettici spesso e comprendile bene e svolgerai meglio il tuo dovere. Amen. Ho capito che chi ha veramente a cuore la volontà di Dio mette da parte i propri interessi e dà priorità a quelli della Chiesa. Considera come agire al meglio per il lavoro e per l'ingresso nella vita degli altri. Solo questo è in linea con la volontà di Dio. È vero. Capito questo, il giorno dopo mi sono informata sull'andamento del lavoro di tutti e ho scoperto che erano afflitti da problemi di ogni genere. Così abbiamo condiviso sui principi, cercato un percorso e pianificato le soluzioni. Lode a Dio. Due settimane dopo, stavamo già ottenendo risultati migliori. Lode a Dio. È meraviglioso. Grazie alle esperienze che ho fatto in questi mesi, ho capito l'importanza della supervisione. Sì. Sono disposta ad accettare l'esame di Dio e a compiere bene il mio dovere. Amén. Lode a Dio. Accettare la supervisione dei leader. Anche a Dio. Grazie a tutti.